Beer Food Attraction 2019, siamo allo stand di Yarp, gruppo Epta, un'azienda che si occupa di rifrigerazione tutta italiana e che ha un fatturato di quasi un miliardo di euro. Ci troviamo in compagnia del mio omonimo Fabio Russo, direttore vendite Italia per l'azienda. Buongiorno Fabio e benvenuto sugli schermi di OrecaTV.it. Buongiorno, buongiorno a tutti. È un po' inquietante presentarsi e dire piacere Fabio Russo e guardare dall'altra parte con gli occhi strabuzzati qualcuno che ti dice anch'io. È stato ovviamente davvero un caso ma molto piacevole perché abbiamo avuto modo in questo caso di avere un primo contatto dopo Massimo Bravo con il direttore vendite Italia che in pochi minuti ci spiega intanto perché siete qui al Beer Food Attraction. Allora siamo qui perché questa è una fiera in crescita dedicata al mondo Oreca, a Beveres dove noi come gruppo ma in particolar modo come marchio di Arpi vogliamo dimostrare la nostra presenza e la nostra forza nel cercare di tirar fuori sempre prodotti nuovi, innovativi e dare qualcosa di molto forte al mercato. Fabio, alle nostre spalle abbiamo uno dei prodotti che presentate qui anche se non l'unico. Di cosa si tratta? Allora, qua presentiamo un paio di prodotti nuovi. Uno è questo alle mie spalle che si chiama Glee, che è dotato di gas naturali, di luci led integrate nei profili interne, quindi il massimo dell'innovazione dal punto di vista della rifergerazione professionale. E poi presentiamo una cantinetta a vino molto ma molto bella, made in Italy, che sta calamitando le attenzioni dei professionisti del settore. Mentre ci preparavamo a fare l'intervista ho notato più persone che si sono avvicinate e hanno chiesto maggiori informazioni anche con dettagli tecnici abbastanza circostanziati rispetto alla vitrinetta che abbiamo visto poco fa. Che cos'ha di tanto interessante questa vitrinetta? La cantinetta a vino ha una centralina di ultima generazione a touch che è molto interessante perché permette di stoccare sia vini bianchi che vini rossi, che birri artigianali, che birri industriali, per cui copre un'ampia fascia di gamma. In più la linea, il design innovativo comunque attirano l'attenzione e chi l'ha comprata l'ha già ricomprata. Questo è il maggior indicatore per noi di aver fatto un altro buon prodotto. Fabio, infine, per chiunque desideri mettersi in contatto con voi, qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui poter scrivere senza alcun impegno? Allora, infochiocciolagliarp.it oppure direttamente al mio fabio.russochiocciolaepta-italia.com Grazie per la disponibilità e a presto vederci sugli schermi di orecatv.it Grazie a voi